I tre operai della Sabino Esplodenti sono morti mentre stavano tagliendo una spoletta a una granata di artiglieria. Qualcosa è andato storto e sono stati travolti da una violenta esplosione. Sono deceduti così Ferdinando Dinella, 62 anni di Lanciano, Giulio Romano, 56enne di Casalbordino e Gianluca De Santis, 44enne di Palata. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Chieti e della compagnia di Ortona sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto Silvia Di Nunzio che ha aperto un fascicolo in cui vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Ancora sotto shock per l'accaduto l'intera comunità di Casalbordino come racconta il sindaco Filippo Marinucci. E' stata revocata l'ordinanza di evacuazione ieri dopo che il comitato del CCS ha dichiarato la fine dell'emergenza esterna e quindi il sequestro dell'asplonente Sabino è ripetato proprio al sito della disgrazia. Sicuramente ancora siamo sconvolti da questa tragica notizia, da questo evento che ha scosso un'altra volta a distanza di tre anni le nostre comunità e veramente c'è da chiedersi se oggi come oggi incidendo il lavoro di questa portata perché c'è il dovere di sapere perché è successo e cercare in modo che queste cose non succedano più. Quindi la magistratura avrà il suo corso ma rimane lo sgomezzo di un'intera comunità. Il lavoro che si fa in quella fabbrica, il disinnesco di ordini bellici, sempre che mentre si procedeva a questo disinnesco è successo probabilmente. A volte gli ordini possono uscire anche difettosi, anche se quella fabbrica segue tutte le procedure ripetute nel tempo di sicurezza ma si lavora con un elemento come la polvere dell'asfaro che se a un certo punto c'è l'imprevedibile è sempre dietro la porta, anche se sono rispettate tutte le procedure di sicurezza. L'area è sotto sequestra, a disposizione delle autorità giudiziarie che provvederanno a bonificare l'area dove c'è stata la disgrazia. Gli artificieri dell'esercito che in collaborazione con gli artificieri di primo intervento stanno valutando il da farsi e la programmazione degli interventi da procedere. Intanto nella giornata di oggi dovrebbe essere effettuato il riconoscimento cadaverico da parte dei familiari delle vittime. I corpi dei tre operai si trovano presso l'obitorio dell'ospedale di Chieti e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con ogni probabilità lunedì la procura di Vasto affiderà l'incarico per effettuare l'autopsia al medico legale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, Pietro Falco.